Oltre all'aspetto legale e l'aspetto politico, che sono sempre due temi fondamentali nella carriera di Scotturo, in questo identici inserisce invece un passion project, cioè un riferimento alla sua storia autobiografica, quella infatti di un gemello morto in tenere età per quanto lo riguarda, e quella invece di due gemelli protagonisti di questo identici, che in qualche modo racconta l'avventura dei dioscuri di Castore Polluce, che in qualche modo riprende molta della mitologia greca, le due famiglie che si scontrano, i Giannis e i Cronos, sono per chi ama questo tipo di genere, per chi comunque è studiato al classico, danno modo di anticipare magari alcune delle vicende thriller che vengono svelate nella seconda parte del libro. Un libro che ha meno elementi legal da parte dell'inventore del legal thriller, ma più appunto un divertissement che va a ragionare sull'anima umana, sulla eterna, immarcescibile anima umana che è piena di problemi, è piena di complicazioni, è piena di scontri che poi nel corso degli anni e addirittura dei decenni si incancreniscono, non capendo più in realtà quale sia stato il motivo iniziale di una eventuale lite. I Giannis e i Cronos sono queste due famiglie che possono sembrare in realtà delle famiglie uscite da Shakespeare, che rappresentano in qualche modo la legge della natura che si scontra ancora una volta con la legge dell'uomo, però questa volta l'aspetto legale è meno importante, c'è quasi un aspetto medico legale interessante, quello del DNA. La struttura elicoidale del DNA con i suoi estremi in qualche modo rappresenta forse la sintesi proprio dell'uomo e del libro stesso, che è un racconto divertente che dimostra come scotturo, mano a mano che si inflaziona il genere thriller e aumentano ahimè degli imitatori anche di scarso valore, dimostra di essere a suo modo un gigante della letteratura thriller. E allora sicuramente ci sarà modo di divertirsi con queste vicende mitologiche, ci sarà modo anche di appassionarsi a questa storia che è molto complicata ma che fondamentalmente ragiona e racconta della natura umana. Ad esempio la politica che torna ancora una volta dimostra come in realtà, se parliamo di mitologia greca, gli elettori si aspettano degli dei al posto dei politici, non certo degli esseri umani, ma in realtà l'umanità con le sue fragilità è ancora una volta protagonista anche di questo romanzo di scotturo.